Vincent Van Gogh La storia di Van Gogh è uno di quei casi il cui il destino ha voluto che il meritato riconoscimento arrivasse solo dopo la sua morte. Molti dei suoi quadri sono opere simbolo della neonata arte contemporanea e molti suoi gesti estremi, come il noto taglio dell'orecchio, hanno fatto parlare di lui. Andiamo a conoscerlo meglio. Vincent viene alla luce il 30 marzo del 1853, un anno esatto dopo la nascita di un fratellino nato morto. Anche lui si chiamava Vincent. La famiglia vive a Zuntert, dove il papà è pastore protestante. Dopo degli studi non brillanti, inizia a lavorare per una casa d'arte che si occupa di riproduzione di stampe. Questo gli permette di viaggiare molto. Tornato nella sua terra, inizia a dipingere con ardore. I suoi soggetti preferiti sono i contadini. È a questi ultimi che Van Gogh dedica i mangiatori di patate, tela che esalta la dignità di queste umili persone. Il 1886 è un anno di svolta. Vincent si trasferisce a Parigi, patria dell'impressionismo. Ma Parigi è anche una città vivace e pronta alle novità, non ultima quella del giapponismo, attento alla pittura e alle stampe orientali. Una tendenza che al pittore non passa inosservata. Ma la capitale è anche il luogo degli affetti. Qui vive l'amato fratello Theo, con cui intesse una corrispondenza lunga tutta la vita. Due anni dopo Van Gogh è ad Aro e qui affitta la Casa Gialla, un atelier in cui verranno realizzati numerosi dipinti e che fa da scenario alla burrascosa amicizia con Gauguin. Da questo momento la salute mentale del pittore inizia a peggiorare drasticamente, tanto da rendersi necessari un ricovero all'ospedale di Saint-Rémy. Dimesso, muore suicida nel 1890 a Dover-sur-Oise. Van Gogh, al di là delle vicende biografiche, è importante per aver riformulato il linguaggio pittorico dopo l'impressionismo. La pittura non è più veicolo di ciò che l'occhio vede, ma di quello che l'anima sente. È un'arte soggettiva. La linea oscilla, le pennellate disegnano movimenti circolari, gli oggetti si deformano un po' per dare voce al tormento di Vincent. Capolavori come La Chiesa di Auvers-sur-Oise, La Notte Stellata o i Girasoli sono chiari esempi della sua pittura. Sembra incredibile, ma in tutta la sua vita Van Gogh è riuscito a vendere un solo quadro, Il Vigneto Rosso, e pensare che oggi è uno dei pittori più amati al mondo. Grazie a tutti.